Ben tornato a Rado Stinstoicev, nuovamente sulla panchina della Trentino Walle. Rado, ben tornato, innanzitutto le tue sensazioni dopo questo ritrovarsi a Trento. Grazie, ovviamente di tornare a Trento, per me è tornare a casa. Praticamente questo era il progetto dell'anno scorso, per un'esigenza della società, io e una grossa parte dei giocatori siamo dovuti andare via, però adesso spero che poco a poco riusciamo a recuperare tutti. Dove si riparte? E poi soprattutto da cosa si riparte Rado? Si riparte da me, dopo le domande per gli altri passi che dobbiamo fare come società sono per il Presidente. E con quali obiettivi personali, quelli che ti sei dato e poi magari anche quelli della società? I miei obiettivi personali sono di nuovo ricostruire una società e una squadra in grado di vincere tutto. Avrai seguito la Trentino Walle nell'ultima stagione, che effetto ti ha fatto a seguirla da lontano? Assolutamente, ho visto tante partite del campionato italiano, Coppa, campionato del mondo. Ovviamente è difficile guardare da lontano la nostra società e la nostra squadra, però abbiamo fatto, non solo io, ma tutti gli altri ex giocatori della Trentino Walle, un grande tifo. Abbiamo ovviamente festeggiato la Supercoppa, che è un trofeo importante per la società quest'anno e speriamo di avere le possibilità di altri triunfi quest'anno. Ma Trento ti è mancata guardandola da fuori? Certo che mi è mancata, ripeto, è mancata non solo a me, ma a Mattei, a Osmani, a Rafa, a Mitter, a tutti. Che messaggio ti senti di dare alla società, ai tifosi che ti ritrovano dopo andando sulla panchina di Trento? Alla società i messaggi non posso darli, noi abbiamo avuto sempre un contatto stretto con il Presidente, con tutta la gente dell'ufficio, però in questo momento mi sento di dare un messaggio importante ai tifosi, che noi abbiamo bisogno di loro, li aspettiamo, questi hanno in palazzetto e sono sicuro che ritorniamo di vincere. Quindi l'obiettivo è vincere già nel breve periodo? Assolutamente sì. Bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie.